Aspettavo che piccasse e subito, dopo che ho visto la testolina, gli ho ficcato un cento, chillandolo. Ho detto vabbè, me ne manca uno, ma improvvisamente vinsi la partita così dal nulla. Allora mi chiesi, ma scusa il terzo come ha fatto a morire? Lo guardiamo subito signori. Mentre io cercavo il tizio, il signor De Samurai era quattroquattro su una montagna a bere il suo succhino. E fin qui tutto bene, magari aveva faiutato e si stava scildando, quando improvvisamente tirò l'impulse più assurda della vita. Guardate che impulse ha tirato sto tizio. Ma dico io, ma come fai a tirare un impulse del genere? Ora iscriviti e lascia like, se anche tu hai un amico così nabbo. DAGLE!